Buongiorno a tutti, sono Luigi un Araccio, se preferite, benvenuti a questo nuovo video. Allora, il video è abbastanza veloce, in cui semplicemente vi sto un attimo a fare una rapida analisi di due PG, il Gohan uscito nella batch di oggi e il Gothax uscito qualche giorno fa. Non l'ho fatta subito su Gothax perché farne una solo su una carta è abbastanza inutile. Due carte però di questa importanza valgono un video. Iniziamo da Gohan, il Gohan Super Saiyan 2 Thin, quindi in realtà sarebbe adulto perché il Thin dovrebbe essere quello un pochino più piccolino. Allora, andiamo a vedere. Statistiche molto buone, abbiamo quasi 8000 ad attacco di HP, davvero non male. Possono fare una loro piccola differenza. Difesa normale della media. Key Meter, nella parte bassa del Ki non è il massimo in quanto appena un Ki più 5, nella parte alta però arriva ben 145 a Ki 12, una cosa davvero enorme, contando l'attacco da 8000. La Leader Skill è la stessa di Gohan Ultimate, di cui sarà il concorrente, fino a che Gohan Ultimate non diventerà LR, addirittura questo Gohan è consigliato rispetto all'altro, sia per via di Link sia per via, come vedremo, della passiva. La Special, come potete vedere, parte da 28000 per arrivare a 49000 di attacco base, enorme, poco da dire, enorme. Andiamo a vedere adesso Passive Link. Passive. Allora, se lui arriva al 100% di attacco, quindi con 5+, potenza è l'attacco di tutti quanti di 2000. Ora, è un PG particolare, la sua passiva gli permette di essere un supporter migliore di molti altri. Un 2000 di solito è un 25% in team ben fatti. Questa dire che si può vedere la sua passiva come al più 25% attacco di tutti con chi metter di 5 superiore. Non è difficile ottenere il chi metter di 5+, soprattutto se lui è il leader, bastano appena 3 Ki. È abbastanza interessante, unica nel suo genere, se non ricordo male, non ci sono altri PG aventi una passiva simile. Comunque lo mette in una posizione molto diversa da quella di Ultimate Gohan, che potenza solo se stesso. Per questo è un ottimo PG, fidatevi. I Link sono la versione migliorata di quelli già presenti per Ultimate Gohan, presenta sempre la Shocking Speed come lui, più tutti quelli inerenti a Super Saiyan. Cosa si può dire quindi in breve di questo PG? Versione migliorata di Ultimate Gohan, che però si vede di più nel... Sentite rumori, è la mia ragazza che non sta zitta quando dovrebbe starci. Ritornando a noi, è la versione migliorata di Ultimate Gohan, con Link migliori, con una passiva diversa, che invece di potenzia se stesso, potenzia interamente il gruppo. Secondo me, attualmente migliore di Ultimate Gohan, arrivando più in alto in un'eventuale classifica, che dopo l'uscita di Goku Super Saiyan 3, come vi ho promesso, farò anche per il Global. E quindi PG, non male, di sicuro tra i più forti attualmente in giro sul Global. Se lo avete pullato, tentevelo da parte, sarà molto molto forte, soprattutto contro il 40 Samy di Janemba. Andiamo però adesso alla carta migliore delle due, ovvero il nostro carissimo Gotenks AGL. La statistica è inferiore sulla carta rispetto allo scorso PG. Non arriva agli 8000, un 7700 in HP e un 7500 in attacco, che comunque non sono da buttare. Abbiamo un key meter migliore e anche peggiore, ovvero a 4 arriva a 100, ma a 12 arriva appena a 120. Non è il massimo, ma fidatevi, questo PG è molto meno di quanto credete. Leader, stessa di Gohan, un bel key più 2 di base. Super, come potete vedere parte da un 22.000 per arrivare a un 38.000, ma ha una ragione essere così bassa rispetto alle scorse, ovvero la passiva. Questo PG per ogni sfera prenderà un bonus del 10%. Questo cosa significa? Che a differenza di altri PG che sono bloccati a prendere le sfere tech, ad esempio Cell o altro, lui per ogni sfera di qualsiasi colore ottiene un bonus del 10%. Può non sembrare, ma questo gli permette di avere un aumento di attacco in mondo. Siamo davanti a un vero cannone. Con Golden Freezer AGL è capace di shottare il nostro caro amico Broly, bishottare Gogeta, anche se là il problema è che Gogeta ti ammazza prima che te riesci a bishottarlo, di solito, quindi non è proprio facile facile riuscire a ammazzare Gogeta utilizzando la tecnica Nuke. E comunque, secondo me, è tra le carte più forti del Global, togliendo tutte le LR, quindi Broly, Cell e gli altri, è al secondo posto tra le carte più utili e più forti, perché è questo anche per invaglia delle link skill. Purtroppo non ha le link skill dei Super Saiyan, ma di base ha una Shocking Speed che è utilissima e utilizzabilissima con un pochino tutto, Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage e anche qualcosa di leggermente più inutile, tipo The Innocent e Supreme Power. Fused Fighter, invece, servirà un casino con il suo di Gogeta, facendolo linkare come se non ci fosse un domani con Gogeta. Purtroppo Gogeta non ha Shocking Speed, il che rende questa versione di Gotenks un po' meno adatta dei link seri con lui, ma fidatevi, questo PG è capace di fare cose assurde. Di sicuro, attualmente, fino all'uscita di Goku Super Saiyan 3, è il miglior AGL del gioco, lo repito superiore anche a Goku God AGL, in quanto i link più o meno sono gli stessi, ma in ottica di danni, questo li può superare di gran lunga, oltre ad avere una leader molto più utile, PG ha il primo posto da utilizzare per lo stage 20 stamina di Hero vs Health. Se lo avete trovato, potete stare tranquilli, avete trovato uno dei PG migliori che potrete mai avere. Detto questo, ora qua finisce questo piccolo video, lo pubblicherò immediatamente, vi auguro il bocca al lupo per il torneo, vi ricordo che questo torneo durando 5 giorni è ancora in quelli un pochino lunghi, ormai vedrete diminuire sempre di più, lo scorso torneo già durava malapena 3 giorni, farvi capire. Vi auguro un in bocca al lupo a tutti, per qualsiasi cosa scrivete qua nei commenti, oppure sui gruppi in descrizione, iscrivetevi, mettete mi piace e alla prossima!